Altri tre colpi, totale 10. E salgono a una ventina i giocatori agli ordini di mister Massimo Donati, convinto, come tutta la samba, che l'impresa di vincere subito, nonostante il grave ritardo, sia possibile. Hanno firmato Jander, entrambi classe 2002 Gianluca Cum, esterno d'attacco che arriva dall'Udinese, e il terzino Giuseppe Amato, della Primavera del Monza. Insieme a loro, firmato anche l'attaccante Carmine De Sena, 30 anni da compiere il prossimo 13 ottobre. L'ultima esperienza del neo-rosso-blu divisa tra Renate e Carpi, totale da 6 gol. Sono invece 62 le reti collezionate nel corso della carriera di De Sena, che ha vestito anche le maglie di Viterbese, Bisceie, Angri, Messina, Ebolitana, Paganese, Ravenna, Cuneo e Porto Gruaro. Ma non è finita qui. In prova, oltre a due portieri, anche i 2000 Mattia Palladini, nipote della bandiera rosso-blu Ottavio ed esterno d'attacco del 2000 nell'ultima stagione al Porto Sant'Elpidio, e il centrocampista Leonardo Rossi, cresciuto proprio nella samba e poi a Salerno e Lanciano. Si è già raffreddata invece la trattativa con l'ex Danilo Soddimo, 34enne reduce dall'esperienza di Pisa e che potrebbe anche decidere di smettere. Restano invece buone altre piste, un paio a centrocampo. Il 93 Fabrizio Massimo Bramati, rimasto svincolato dopo l'esperienza alla Paganese, e il ben più costoso Giovanni Sbrissa, 25enne che vanta 86 presenze e 3 gol in Serie B. Accostata alla samba anche la punta Ettore Mendicino, 31 anni, con 59 partite tra i cadetti e oltre 200 in Lega Pro, nell'ultimo torneo con la maglia della Paganese. E intanto il presidente Roberto Renzi si è insinuato nel fallimento targato Domenico Serafino. Ieri, udienza in tribunale ad Ascoli per la verifica dei crediti. Renzi reclama 900.000 euro, ma il giudice sembrerebbe disponibile a concedergli solo i 145.000 di residuo degli stipendi della passata stagione, somma che il numero 1 rosso-blu ha dovuto saldare per farsi ammettere in sopra il numero in Serie D.